Oltre 3.000 positivi in un giorno in Campania, dove la curva del contagio aumenta leggermente rispetto ai giorni precedenti. I casi riscontrati sono 3.800 a fronte dei precedenti 2.815, con un rapporto tra positivi e tamponi del 12,6%. I asintomatici sono 2.681, i sintomatici 327. Il totale dei positivi sale quindi a 146.118. Resta ancora alto purtroppo il numero dei morti, che nelle ultime ore sono state 49 registrati tra il 7 e il 25 novembre. Un dato preoccupante è quello dei decessi per Covid, che nel solo mese di novembre è stato di 758. La curva dei contagi però sembrerebbe essersi stabilizzata in Campania e a breve dovrebbe cominciare la discesa. Proprio sulla base della situazione epidemiologica attuale tra contagi e indice RT che indica il tasso di contagiosità, il Ministero della Salute nelle prossime ore valuterà se prorogare la zona rossa o se eventualmente promuoverla a zona arancione. La zona rossa in Campania è stata istituita lo scorso 15 novembre a validità di 15 giorni. Doverbe dunque terminare il prossimo 30 novembre. Prima di allora però arriverà la decisione del Governo su un'eventuale proroga o sul passaggio appunto in zona arancione.